Ragazzi vi avviso sono cambiate le regole per vincere il minti anche rispetto allo scorso video Per partecipare dovete eseguire 5 passaggi esatti Il primo ragazzi è lasciare like sotto questo video e arrivare minimo a 4500 like per fare l'estrazione Si ragazzi da oggi dovremo arrivare a un tot di like per fare l'estrazione Per questo video il minimo è 4500 pollicioni in su Fatto questo dovete iscrivervi al canale attivando la campanellina su tutte Quindi voi cliccate sul tasto iscriviti Piggiate sulla campanellina e attivatela su tutte In questo modo sarete i primi a scoprire chi sarà il vincitore di questo contest Fermi dovete anche far iscrivere 5 amici al canale youtube E' davvero semplicissimo per convincerli Condividete questo video e dite bro se ti iscrivi al canale lasci like puoi ricevere il piccone minti di fortnite Oppure per favore potresti iscriverti al canale di questo mio grandissimo amico youtubers Lui magari ragazzi se è davvero un bravo amico si iscriverà lasciare al like E in questo modo ragazzi potrete il 25% in più di vincere questo piccone Fatto questo ragazzi come ultimo passaggio Commentate con le vostre ID di Epic Games, Playstation, Xbox o qualsiasi console dove siete E che dite ragazzi 4500 like Detto questo vi lascio al video bella boys Oggi ragazzi vi trovate finalmente in un nuovissimo video molto molto particolare Come avete visto è ritornata anche alla coperta di Spongebob Quindi facciamo un bel saluto a Spongebob Ma ragazzi state osservando benissimo Come nome abbiamo Paypal Nikadi Praticamente ragazzi cos'è Paypal? Paypal è una banca online diciamo così Che tutti, la maggior parte delle persone la ha Quindi ragazzi ho pensato ma se io inserissi in Paypal.me che è tipo uno short link Come nome di Fortnite riesco a fare soldi E ragazzi questo ci proveremo a fare più kill possibili Per naturalmente vedere se qualcuno gentile ci invia dei soldi Beh ragazzi lo scopo di oggi non è fare soldi Ma sperare che qualcuno ci invii per intrattenere e per rendere il video il più divertente Ragazzi vi ricordo domenica ore 11 andremo in live finalmente dopo un mese intero E mi raccomando ragazzi un bel like, iscrizione, commento e tutto questo iniziamo Destinazione come sempre Borgo Bislacco E purtroppo ragazzi avevo provato già a registrare questo video in precedenza Con un nuovo account Ma ragazzi come sapete se ci creiamo un nuovo account siamo intasati di bot E purtroppo naturalmente nessun bot ci può inviare soldi su Paypal Quindi ragazzi ho dovuto prendere la bruttissima scelta di cambiare nome sull'account principale mio Ok abbiamo già un bel po' di persone Attenzione ragazzi tutti quanti forti Con questo bellissimo piccone minti Apriamo la cassa Pushiamo subito perché dobbiamo fare le kill ragazzi Dobbiamo fare solo le kill A noi non interessa altro Attenzione uno qua Ok aiaia ci ha fatto malissimo ragazzi Ci ha fatto proprio molto 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 male Abbiamo 30 di vita ma come? Oddio Nooo ci ha già ucciso Ma che peccato raga Comunque già una persona l'abbiamo uccisa Ragazzi amante una gente Attenzione 29 Raga dobbiamo fare assodissimamente kill Oddio Oddio sono tutti quanti forti qua raga eh La maggior parte erano tutti quanti No non va bene Zio calmati Ok Vittate un bordello Questo è uno pazzo ragazzi Boccato Aiaia Sì Ucciso ragazzi Ucciso Perfetto Raga speriamo che ci invia i soldi Speriamo che ci invia davvero i soldi Sono veramente euforico come si suol dire Raga abbiamo anche tantissime altre persone sotto Siamo pieni di gente raga Ci pusha Aaaa Siamo morti Oddio No raga Non ci sto Quante persone abbiamo ucciso Già due kill abbiamo Perfetto Davanti a noi altre persone Ok questi non sono bot Raga questi per fortuna Ma anche per fortuna non sono bot Abbiamo rischiato No 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 Zio calmati Zio devi calmarti Prenditi una camomilla Ma rilassati E calmati Davanti a noi Raga questo qua ci fa Sicuro Proviamo con la foglia La viocina Che c'è tipo un cecchino Attenzione No Schivato Ah 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 Non va bene Non va bene ragazzi Non possiamo sprecarcela così Dobbiamo pushare C'è l'ha serato ragazzi C'è sciolto Non di più C'è la C'è sciolto praticamente Attenzione Questa Raga Oddio Questa è forte Attenzione Raga Davanti a noi Oddio 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 Che fai Ti intenso Non abbiamo più Maz Come 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 I maz ci servono Ok E siamo morti Ragazzi Siamo morti liga Siamo morti Oddio 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 Reda cosa abbiamo fatto Cosa stiamo combinando ragazzi Abbiamo pochissimi maz e abbiamo 3 kill Tipo epiche epiche Vi giuro epiche raga dopo questo game Dobbiamo assolutamente andare a controllare Quanti soldi abbiamo su paypal Ho visto che già uno prima ci stava aspettando Quindi ragazzi sono veramente un po' In hype e anche molto curioso di sapere Se ci hanno inviato realmente i soldi oppure no Attenzione ragazzi altra persona Davanti a noi speriamo di farcela Ok 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 Tata 29 Altra 29 lo sparano da due lati Veramente concentrazione in questi game Perché ragazzi siamo veramente euforici Pusciamo subito Pusciamo subito Attenzione qua da lato Saliamo Prendiamo le ground Copriamoci Eh che scopriamoci Raga non possiamo neanche salire da qua O forse si Azzo raga abbiamo rischiato Edita No Ci ha ucciso raga Peccato Ci ha killato Fa niente lo stesso Ok ragazzi Nello scorso game abbiamo fatto circa 3-4 kill Ed è arrivato il momento di controllare paypal Ho notato ragazzi che un tizio ci stava aspettando E questa è una cosa molto molto interessante Andiamo ad inserire i dati della nostra paypal E facciamo l'accesso Ok ragazzi Stiamo facendo l'accesso Attenzione Mantieni in corso paypal Sing in my account summary Abbiamo 112 euro e 90 centesimi Fatti con tiktok raga Ragazzi Denaro ricevuto 11 novembre Abbiamo inviato 2 euro a google Perché ragazzi oggi ho fatto una donazione a 1000 centini E abbiamo ricevuto 5 centesimi Denaro ricevuto 11 ragazzi novembre 11 è praticamente oggi Come vedete ragazzi è l'11 Sono alle 8 e 38 di sera Qua ragazzi abbiamo codice transazione 11 novembre You have kill me Ragazzi ci hanno inviato i soldi Oddio 5 centesimi ci hanno inviato raga State vedendo ragazzi 5 centesimi You have kill me Raga non vi sto scherzando Vi giuro 5 centesimi Dio santo raga Che figata ce l'abbiamo fatta quindi praticamente Però ragazzi 5 di euro ci sono troppo pochi Io vorrei fare almeno 2-3 euro Proviamo a farci altri game subito ragazzi Perché voglio fare tantissimi altri kill Ma non me lo aspettavo raga Probabilmente sarà stato quel tizio che ci stava aspettando Quando abbiamo fatto 3 o 4 kill Non mi ricordo neanche io Ma davvero ragazzi Sono veramente euforico Un bel like ragazzi Per questi 5 centesimi Che abbiamo ricevuto Molto molto interessante Magari se ci inviavi 2-3 euro Eravamo tutti quanti più felici Destinazione Borgo Bislacco Sprevo di fare un po' di kill E di non morire Atterriamo la cassa Brutoricamente No 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 Ma ci ha tolto lo sprint Apriamo la cassa Non abbiamo armi Non abbiamo Raga vi giuro Non abbiamo mai armi Quando registro video Non ho mai trovato armi potenti Abbiamo ragazzi Leggermente stabilizzato Questo loot Attenzione ragazzi Davanti ci sta uno Raga non ce la faccio ragazzi Non ce la faccio Oddio No usciamo Aiuto Davanti no ragazzi Uno Dietro Ci vuole provare Ci vuole provare Maledetto Sopra di noi Sopra di noi Sopra di noi Ma cosa sto dicendo Un ucciso Perfetto Sì È nostro Ok perfetto Raga Perfetto Vi giuro che fare kill Questa S'ha diventato tipo una sfida Se facciamo una kill Siamo già fortunati Perfetto Altre due kill Effettuate State vedendo ragazzi Questo qua ci sta aspettando Forse ci può Inviare I soldi Attenzione gente Ancora gente davanti a noi Cosa vogliamo fare Buttiamo delle bombe Delle granate Buttiamo Buttiamo Forse è nostro Forse è nostro Ok Hittato Qua dentro ragazzi Aia Aia Sì Ok raga Tre kill Ci stiamo un po' Ristabilendo Prima non facciamo neanche una kill Raga Andiamo immediatamente a curarci E già Quest'altro ragazzi Ci sta aspettando Oddio Santo Raga davanti a noi Oddio 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 L'abbiamo quasi sfiorato Ha praticamente anche lui C'è il chino Vediamo cosa vuole fare Affacciati zio Affacciati Affacciati dai bro 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 Ti aspetto Ti aspetto Ti aspetto Andiamo un po' Ragazzi Andiamo un po' Non capisco Oddio ragazzi Ci ha schivato Ci ha preso E' sfiorato Meno male che avevo fatto Non possiamo pushare Non possiamo pushare Aaaaa Ci ho preso ragazzi Peccato 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 Attenzione un bel po' Di hit Abbiamo tirato Cosa vuole fare Dai 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 Prendilo almeno una volta Prendilo almeno una volta Si 9 9 9 9 9 9 Ci sta pushando Dobbiamo prendere le ground subito Dobbiamo prendere le ground subito ragazzi Attenzione Attenzione Raga non sto capendo Come sta giocando questo tizio Ok Ci sono nell'acqua Oddio raga Ok raga Mio di ragazzi Che fight lunghissimo Curiamoci velocemente Zio Calmati No No raga Non ho più parole Vi giuro ragazzi Non ho proprio parole Ok ragazzi Arrivato il momento Di controllare Se ci hanno inviato Ulteriori soldi Su paypal Niente ragazzi Abbiamo girato la pagina Di paypal E non ci hanno inviato Neanche un centesimo in più Peccato ragazzi Quei due che ci stanno aspettando Erano veramente tirchi E non ci hanno inviato Neanche un centesimo Che cattivone E che dire ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bellissimo Pollicione in su Iscrivetevi al canale E non dimenticate ragazzi Che questo è solamente Un video scopo informativo E mi raccomando Minimo 3500 like Se volete un altro video Del genere Magari ancora più interessante Ah ragazzi Partecipate tutti quanti Al contest per ricevere I colleghi amici Se ci vediamo il prossimo video Bella boy